il fatto è che mi diverte torturare uno sbirro ma non siamo sbirri siamo andrea alberto facciamo radio non me ne frega un bene amato cazzo di quello che sai di quello che non sai l'unica cosa che possiamo dirti che questa settimana pop up è al tournée per parlare di cinema non conosci pop up il programma radiofonico itinerante è il mio programma preferito visto amici di radio popolare pop up piace anche a mister blondi appuntamento venerdì sera alle 22 30 in via paolo frisi al 3 se non venite vi mandiamo mister blondi